Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Grananas Siamo tornati con Rottenition One Per queste tre partite, come abbiamo detto nell'ultimo episodio, giochiamo uno un tempo a testa E ora inizio io perché l'ultima partita è iniziato lui Esatto E valutazione 78, allenatore cocainomane da 30 anni Finita, finita Finita Ibarbo Quadrato Eeeh, sì So cazzi, so cazzi, so cazzi So tipo un po' dolandesi Tocca ampegnasse, cioè quadrato Ibarbo davanti, basta Cioè, questa sarà un'ansia continua a sta partita Guarda quello bello Sto de me, non importa Cituva Dai 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 Travani, 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 travani Travani, travani Travani, travani, travani Tutti quanti, tutti quanti, travani Dove, non, perché non, perché non, perché non, perché non, perché, perché Dunia Segui questo Dunia, no io so che ia da fuori le direzioni no no mamma mia d scena così no no porco 2 come fai non fa un passaggio del genere bella bella guarda che partito bello bello del zio fallo non è proprio che si fanno pazzi non parla con me, parla con giocatore ah mamma mia che brutta cosa oh pace porco dici mongoloidio dai oh ma non ce la fai a scavalcan avversario sei tu dubbio no io so che ità mamma mia che coro che coro che sto a fa mamma mia con questa vincimo vedi o vedi dubbia vai bello e vabbè però no porca troia non ne passa una o una no madonna mamma mia si ma col culo è passato perchè c'è solo col culo sta buono ma no mortaggio no vabbè mamma mia Hulk 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 fa il gol che non hai fatto oh porco cane dai però c'è una stecca sta stella ti giuro la spacco ho grotato il primo proprio non c'è il tipo di che non mai compri no che non c'è il tuo di uno la spacco Hulk vada per Musa che cazzo sto Musa gli manca sempre un punto per perdere la k ma che cazzo hai detto anche sempre un punto per fa 30 come cazzo se dici un punto per fa 2 come se dici non se dici facciamo così va fa tre dubbi fa tre dubbi fa tre dubbi in mezzo in mezzo Musa 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 ma c'è due 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 tu che culo bello no si no no forse no si si un biato un biato un biato un biato un biato un biato eppure te cazzo cazzo la tirata in porta hai tirato sul primo no no ho scrociato non lo non so io ho l'arco caldo ho caldo mamma mi sono tolto un peso e aspettano è finito il nuovo almeno non dirò capito vede 5 minuti guardate che culo oggi bar ma non 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 no mamma non 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 c'è guarda 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 l'avevo presa guarda l'avevo presa vabbè ma che cazzo ho fatto ma va bene comunque sbagliato va bene va bene va bene ma non 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 contento che non 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 oddio 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 come un collo questo è vero è vero si travalo oddio dai vedete questa è il dessino ma è il sito a chi no il destino guarda eh è il destino è il destino basta questo destino no 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 non è gol non è gol non è gol non è gol ok tipo carissa al final dei mondiali si e non seleziona l'altro montacci sua no vabbè mamma mia eccolo è scoperta la difesa non proprio però mamma mia è stato il perde perchè non ho prenduto un mia va bene comunque è in mezzo come vuoi come vuoi oh no vaffanculo meno male che non l'ha passato in mezzo l'ultima azione da è l'ultima azione compare John ci fanno un cazzo che tu cazzo vai vaffanculo ah ne sono strappato ah non so non piangere ci dobbiamo rifare la divisione 7 che ti devo fare intanto premisse capito che cazzo ne sai vabbè io direi che con questi 10 punti ci fanno un cazzo che voglia mi vuole a cuore in merda vabbè dai ragazzi è tutto lo strappo man è tutto 3762 crediti bella ciao sono david e mi sono appena strappato ciao 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 ciao